I sindacati siciliani hanno proclamato lo sciopero regionale del settore commercio e distribuzione cooperativa nei giorni 25 e 26 dicembre 1 e 6 gennaio 2023. In una notte le segretie regionali guidate da Sandro Pagarìa, Giussis Ferruzza e Marianna Flauto spiegano che la protesta mira a sostenere il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici del settore di poter conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative. Secondo i sindacati la liberizzazione delle aperture commerciali ha assortito l'effetto di incidere negativamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici, peggiorandone anche le condizioni lavorative. Non vi sono evidenze sull'aumento dei consumi, ancor più in questo particolare momento storico segnato dalle tensioni geopolitiche che stanno incidendo fortemente sullo smisurato aumento dei prezzi e conseguentemente sul potere d'acquisto delle famiglie siciliane.